Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità verso il giubileo del 2025 nella capitale. Ad oggi sono oltre 1.300 i cantieri aperti per un investimento da 13 miliardi di euro. Tra i più importanti la pedonalizzazione di Piazza Pia, la riqualificazione di Piazza dei 500 e la ristrutturazione del Ponte di Ferro. E proprio sui cantieri giubilari nei giorni scorsi il Campidoglio ha siglato un accordo con le associazioni sindacali e datoriali dell'edilizia per accelerare il più possibile quanto avviato. L'accordo consentirà di lavorare giorno e notte, sette giorni su sette, per completare le opere nei tempi previsti e al tempo stesso garantirà maggiore sicurezza per i lavoratori e trasparenza negli appalti. Sempre sul giubileo partirà questo mese la prima campagna di comunicazione dedicata ai cantieri dell'anno santo.